stai cercando una comoda bustina lavorata all'uncinetto con delle comode tasche interne perfetta per contenere il tuo cellulare i tuoi documenti che puoi utilizzare come portafogli come porta tutto all'interno di una borsa più grande o semplicemente così per portare con te tutto quello che ti serve senza una borsa di dimensioni maggiori allora questo è il video giusto per te io sono silvia e ti do il benvenuto il bentornato qui sul mio canale youtube uncinetto d'argento in questo video realizziamo insieme questa bustina lavorata interamente infilato con delle comodissime tasche interne che ti permettono di portare con te tutto quello che ti serve la costruzione è semplicissima adatta anche per principianti replicabile con qualsiasi tipologia rifilato è completamente personalizzabile nelle misure puoi infatti farla così più grande o più piccola a seconda delle tue esigenze la tasca frontale è perfetta per ospitare un cellulare e la seconda tasca è veramente super capiente come chiusura ho scelto dei mini bottoni magnetici ma possiamo tranquillamente applicare delle cegnere zip oppure delle chiusura a scatto insomma un progetto completamente personalizzabile e ho utilizzato pochissimi materiali in particolare filato tai sublime color fucsia di tessiland vi lascerò indicata sullo schermo la quantità esatta di filato utilizzata per questo progetto con uncinetto tre e mezzo come chiusura due mini bottoni magnetici da cucire color oro li trovate nella mia lista di consigli per gli acquisti amazon nel box informazioni sotto il video insieme a tantissimi altri articoli utili per le borse all'uncinetto mentre questa meravigliosa targhetta personalizzata è di fungo label puoi trovare il loro sito nel box informazioni sotto il video spero questo progetto sarà di tuo gradimento e se è così ti invito poi a farmelo sapere con un bel pollice in su un commento proprio qui sotto il video e se non vuoi perderti tutte le mie prossime pubblicazioni non dimenticare di iscriverti al canale ora non ci resta che prendere in mano filato e uncinetto e cominciare per realizzare questo progetto non ci sono multipli da rispettare ma il numero di catenelle con le quali andremo ad avviare il tutto inciderà sulla larghezza del progetto quindi tenete presente questo fattore quando avviate le vostre catenelle nel mio caso ho realizzato 35 catenelle che corrispondono a circa 18 centimetri ricordate poi che le misure che io vi riporto all'interno del video sono indicative perché le misure possono variare in base alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione completata la mia ultima catenella numero 35 vado ad aggiungere una catenella in più una catenella di supporto e partendo dall'uncinetto torno indietro di due catenelle una e due entro nella penultima catenella lavorata nel mio caso la numero 35 prendo il filo e lavoro un punto basso proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino al termine del giro nel mio caso se avrò lavorato correttamente al termine del giro avrò un totale di 35 punti bassi lavorata l'ultima maglia bassa ho completato il mio primo giro prima di cominciare il secondo realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro attenzione questa catenella è di supporto quindi non va a sostituire alcun punto come proseguire per questo giro e i nostri prossimi giri dobbiamo lavorare una maglia bassa all'interno di ciascuna maglia bassa che ci si presenta partendo quindi dal primo punto disponibile che corrisponde all'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente entriamo con l'uncinetto e lavoriamo un punto basso e proseguiamo con una maglia bassa singola sopra ciascun punto fino al termine del giro non lavorando aumenti o diminuzioni il numero di maglie basse sarà sempre costante quindi nel mio caso al termine del giro avrò sempre un totale di 35 punti lavoro l'ultimo punto del giro dopodiché catenella di supporto e volto il lavoro per i prossimi giri non dobbiamo far altro che ripetere questi passaggi lavorare quindi una maglia bassa singola sopra ciascuna maglia bassa che ci si presenta per tutto il giro lavoreremo quindi in giri di andata e di ritorno proseguiamo in questo modo fino ad ottenere un pannello rettangolare come questo in particolare io ho lavorato per 19 giri raggiungendo un'altezza complessiva di circa 11 centimetri e dopo questi giri di lavorazione la larghezza del mio pannello è di circa 23 centimetri dobbiamo ora rendere più grande il nostro pannello e lo facciamo aggiungendo delle maglie in più da lavorare per ciascun giro abbiamo quindi creato la prima parte della nostra lavorazione ora qui sulla nostra sinistra andremo a creare la seconda il numero di maglie che andremo a realizzare per creare la seconda parte sarà lo stesso numero di maglie con le quali abbiamo avviato la prima parte esempio pratico nel mio caso io avevo cominciato con 35 catenelle quindi per creare la seconda parte andrò ora ad avviare 35 catenelle arrivata quindi al termine del mio giro comincio a realizzare le 35 catenelle lavorata la mia ultima catenella numero 35 aggiungo una catenella di supporto che non deve essere conteggiata come punto e volto il lavoro devo ora tornare indietro lavorando una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella catenella quindi partendo dall'uncinetto entro nella seconda catenella la numero 35 e lavoro un punto basso e proseguo con una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella e lavorate tutte le catenelle ci troveremo poi davanti al pannello non dobbiamo far altro che riprendere a lavorare a la maglia bassa sopra le maglie basse che ci si presentano fino ad arrivare al termine del nostro giro lavorata l'ultima maglia bassa al termine del giro questo sarà il risultato che andremo ad ottenere di fatto abbiamo raddoppiato il numero di maglie da lavorare per ciascun giro nel mio caso avevo cominciato con 35 maglie basse ne ho aggiunte altre 35 come proseguire per i prossimi giri facciamo sempre la catenella di supporto prima di voltare il lavoro e procediamo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta in giri di andata e ritorno esattamente come abbiamo fatto per la prima parte del pannello facciamo questo giro dopo giro fino ad ottenere la seconda parte del progetto quella centrale che deve essere leggermente più alta rispetto alla prima che cosa intendo per la prima parte avevo raggiunto un'altezza di 11 centimetri lavorando per 19 giri per questa seconda parte quindi dal primo giro di maglia bassa dopo le catenelle ho lavorato per 23 giri raggiungendo un'altezza di circa 13 centimetri qualunque sia il numero di giri di lavorazione o di punti che state lavorando è importante che la seconda parte del progetto questa qui sia più alta della prima di almeno due centimetri andiamo ora realizzare l'ultima parte del nostro progetto e dobbiamo farlo partendo da qui in alto a sinistra sul nostro pannello la terza parte dovrà avere lo stesso numero di punti della prima quindi andremo a dimezzare il numero dei punti che andremo a lavorare per ciascun giro partiamo quindi da qui dall'angolo in alto a sinistra realizziamo sempre una catenella di supporto prima di voltare il lavoro e lavoriamo lo stesso numero di punti che abbiamo eseguito per la prima parte nel mio caso erano 35 punti quindi vado a lavorare 35 maglie basse portandomi così al centro della mia lavorazione arrivati al centro del pannello ci dobbiamo fermare la conferma che siamo esattamente al centro l'abbiamo anche tracciando una linea invisibile in verticale in questo modo non dobbiamo proseguire lavorando fino in fondo tutti i punti che ci si presentano ma dobbiamo ora tornare indietro e procedere a zig zag creando così la nostra terza parte ricordate che il numero di maglie per eseguire la terza parte deve essere lo stesso numero di maglie che sono state lavorate per la prima faccio quindi una catenella di supporto e torno indietro e procedo in giri di andata e ritorno fino ad ottenere questo risultato la terza parte della nostra lavorazione deve essere due centimetri in meno rispetto alla prima nella prima avevo raggiunto 11 centimetri con 19 giri qui per la terza parte mi sono fermata a 9 centimetri ottenuti con 15 giri di lavorazione a questo punto non mi resta altro che allungare l'asola sfilare l'uncinetto tagliare il filo e con un ago bloccarlo al di sotto dei punti appena lavorati dobbiamo ora posizionare davanti a noi il progetto in questo modo la prima parte rivolta in basso sulla destra la terza parte rivolta in alto verso sinistra attenzione a questi step prendiamo la prima parte e la pieghiamo sulla seconda teniamo fermo il tutto prendiamo la lavorazione da questa parte pieghiamo a metà vedete che la prima parte è passata sul retro del nostro lavoro giriamo il tutto e otterremo così due tasche la prima e la seconda la terza parte del pannello questa qui in alto diventerà la chiusura nel nostro progetto per poter cucire il tutto ci dobbiamo assicurare che ciascuna parte del nostro pannello sia nella giusta posizione che sia tutto dritto per fare questo possiamo tenere insieme le varie parti utilizzando delle pinzette per tessuto dei marcatori oppure dei fili di scarto cosa intendo quando dico che tutte le parti devono essere dritte ci basta guardare i giri di lavorazione questa subito davanti a noi è la prima parte del nostro pannello che sappiamo essere più piccola rispetto alla seconda che abbiamo qui perché ci sono circa due centimetri di differenza quindi questa distanza deve essere rispettata lungo tutto il progetto da una parte e dall'altra il lavoro poi deve rimanere piatto la parte inferiore del progetto non si deve alzare verso l'alto per problemi di tensione una volta che abbiamo verificato tutto questo possiamo cucire dobbiamo effettuare tre cuciture sui due laterali e sulla parte inferiore del progetto cominciamo dalla parte inferiore utilizzando un ago ho tagliato un po di filo che vado a bloccare all'interno del lavoro facendolo passare al di sotto dei punti presenti sull'interno sempre usando l'ago nascondo la codina e taglio il filo in eccesso porto il mio filo sull'esterno del lavoro davanti a me proprio qui ho le catenelle con le quali ho avviato il mio pannello devo prendere un punto su ciascuna catenella e un punto sulla mia lavorazione che si presenta sul retro passando al di sotto delle maglie ritorno poi sotto la catenella da questa parte passo alla catenella successiva prendo un punto sul pannello e procedo in questo modo fino ad arrivare all'angolo opposto completata questa prima cucitura se abbiamo ancora abbastanza filo possiamo salire e procedere con la seconda cucitura quella di uno dei laterali in questo caso dobbiamo passare attraverso tre strati del nostro pannello 1 2 e 3 contemporaneamente devo quindi prendere un punto sul primo pannello un punto sul secondo e un punto sul terzo e porto con me il filo mi sposto poi sulla destra prendendo un punto sulla prima parte del pannello una sul secondo e una sul terzo mi sposto di nuovo sulla destra prendo un punto da questa parte un punto al centro e un punto sull'altro lato procedendo nella cucitura ad un certo punto non passeremo più attraverso tre strati di pannello ma solamente attraverso due perché completata la cucitura della prima tasca ci resterà poi da cucire solamente l'ultima parte quella in alto della seconda completata anche questa cucitura porto il filo sull'interno del lavoro realizzo un piccolo nodino e blocco il filo al di sotto dei punti che mi si presentano e ci resta ora da cucire il secondo laterale questa cucitura è relativamente più semplice rispetto a quella che abbiamo appena eseguito sull'altro lato del progetto questa è la parte del nostro pannello che abbiamo piegato a metà quindi la seconda tasca quella più interna è già collegata al resto del progetto ci resta solamente da cucire la prima quindi seguendo le stesse indicazioni con le quali abbiamo eseguito la primissima cucitura blocchiamo il filo all'interno del lavoro e prendiamo un punto sulla tasca e un punto sul corpo del progetto cuciremo quindi in questo modo e arrivati all'angolo blocchiamo il filo con un nodino e nascondiamo l'eccesso all'interno del lavoro completate tutte le cuciture ci resta un ultimo step aprire il nostro progetto e cucire i bottoni magnetici la posizione dei bottoni a piacere potete cucirli più verso l'interno o verso l'esterno del progetto per la cucitura potete utilizzare del filo da cucito dello stesso colore della vostra lavorazione all'uncinetto oppure potete utilizzare del filo di nylon trasparente trovate anche questo nella mia lista di consigli per gli acquisti amazon nel box informazioni sotto il video come tocco finale al mio progetto ho aggiunto un'etichetta in metallo color oro e brillantino personalizzata creata per me da fungo label questo è solamente uno dei tantissimi modelli personalizzabili che potete trovare sul loro sito vi lascio il link nel box informazioni subito sotto il video siamo così arrivati al termine del tutorial della nostra bustina che possiamo utilizzare in tantissimi modi diversi grazie alle comode tasche può diventare un portafoglio da inserire all'interno di una borsa più grande un porta documenti più porta cellulare oppure una mini pochette per portare tutto lo stretto necessario con noi quando vogliamo uscire e non vogliamo utilizzare una borsa più grande possiamo inoltre personalizzarla aggiungendo ad esempio un moschettone con una piccola catena per portarla al polso oppure due moschettoni laterali per portarla direttamente come mini tracollina ma ditemi questo tutorial vi è piaciuto lo avete trovato interessante se è così un bel pollice in su e un commento sotto il video e se non volete perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni non dovete far altro che iscrivervi al canale trovate il pulsante sempre sotto il video perciò con questa piccola idea super carina e super utile io vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video qui sul mio canale youtube uncinetto d'argento ciao 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 ciao